Buon anno e bentornati su Ciper TV. Oggi è il primo gennaio 2019. Avete il coraggio di fare il bot con noi? Bene, allora avrete tre minuti di lavoro sul free handstand oppure tre cinque deficit handstand push up. A seguire 4 times, 100 double unders, 50 ab mat sit up, 25 handstand push up, 80 double unders, 40 sit ups, 20 handstand push up, 60 double unders, 30 ab mat, 15 handstand push up e ancora 40 double unders, 20 ab mat sit up, 10 handstand push up e 20 double unders, 10 ab mat sit up e 5 handstand push up. È molto più difficile dirlo che farlo, ma comunque come al solito sulla grafica qui di fianco trovate pesi e scalature. Buon anno ancora e a domani per un altro VOD insieme su Ciper TV.